Il freddo cala improvvisamente sulla Marsica e sullo stadio di casa dell'Avezzano in cerca di punti cruciali per un posto al sole nel girone F di Serie D contro l'ottimo Matese. Gli uomini di Mister Scorsini arrivano galvanizzati dallo 0 a 3 ottenuto sul campo della Nuova Florida, ma subiscono sin da subito il vantaggio ospite con un bel piattone di ricamato, abile a trasformare il rete sugli sviluppi di un corner. L'Avezzano si butta in avanti a cercare il pari e deve fare attenzione al ritorno campano, trovando infine un 1 a 1 che è tutto sommato meritato grazie al tap-in di Scatozza sugli sviluppi di un piazzato a ridosso dell'area di rigore di Palombo. C'è ancora spazio nel primo tempo per una super parata proprio dell'estremo del Matese sull'Abonia, quindi siamo nella ripresa e L'Avezzano prova a fare la gara tenendo alta la linea della pressione. Sull'unica disattenzione della partita, proprio di L'Abonia però, gli ospiti trovano il clamoroso 1 a 2 con una super conclusione al volo di Napoletano, subentrato nel corso del primo tempo a Esposito. Nel finale l'Avezzano sbilanciato in avanti trova una bella conclusione che fa la barba al palo, ma di chiare occasioni non ce ne sono. I campani passano per 1 a 2 al Dei Marzi ed avvicinano in classifica proprio i biancoverdi di Mister Scorsini. Sì, sapevamo che era una partita difficile, sapevamo che non era semplice battere questo Matese che viaggia a grande ritmo, a media punti, primato. Però è una partita che ci lascia e mi lascia la mare in bocca proprio perché penso che due episodi ci hanno veramente condannato. Primo tempo ha giocato solo una squadra, è vero che abbiamo fatto tanto possesso palla ma poche conclusioni in porta. Loro ci hanno subito punito alla prima distrazione su palla inattiva, poi siamo stati bravi a pareggiare. Il secondo tempo è partita in pieno possesso nostro, è chiaro che siamo stati pochi incisivi. Purtroppo viviamo un momento un pochettino particolare, nonostante giocavamo oggi con due punte e un tre quarti, poi con tre punte, poi con quasi quattro punte. Abbiamo provato ad allargare il gioco, abbiamo provato ad entrare sugli esterni, abbiamo provato ad entrare centralmente, abbiamo provato ad entrare con gli 1-2. Oggi era una giornata un pochettino sottotono e è incredibile come non portare a casa niente sul secondo episodio che ha del, è veramente difficile per me commentare, una pallata buttata via dalle retrovie è nato il clamoroso episodio, perché parlo di episodio, sul loro 2-1. Niente, io come sempre dico sempre che quando si vince il merito è dei ragazzi, quando si perde il demerito è del sottoscritto. Io mi prendo tutte le responsabilità, ci metto la faccia, sempre ci metto la faccia e non trovo giusto, non trovo giusto questo clima un pochettino negativo nei confronti di questa Vezzano, non trovo giusto sentire parole pesante nei confronti dei miei calciatori, non trovo giusto perché questi ragazzi stanno facendo e hanno fatto fino adesso un cammino importante. Se qualcuno si è illuso, se qualcuno pensava che questa era un'armata che poteva vincere il campionato, se qualcuno non certo è mai passato né da me né dai miei ragazzi. Noi siamo un gruppo umile, siamo un gruppo che si deve salvare, siamo un gruppo che in questo momento oggi ha fatto degli errori, ci leccheremo le ferite e da domenica in una partita difficilissima andiamo a Pineto contro la squadra che in questo momento comanda questo girone e cercheremo di riprendere il nostro cammino. Io sicuramente sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi. Partita di sacrificio le avevo chiesto contro una squadra che sapevamo che aveva delle qualità, soprattutto dalla metà campo in su. Siamo stati bravi ad andare subito in vantaggio, poi già avevamo qualche defessione importante, vedi Salatino sono due partite che avevano un problema fisico. La gamba, il difensore centrale è venuto meno questa settimana perché ha avuto anche lui un affaticamento muscolare, dopo che abbiamo fatto il gol abbiamo perso Esposito e che è il giocatore che sicuramente ci permette di muovere meglio la palla, ci permette di dare più profondità. E' chiaro che poi a quel punto è venuto fuori anche la Pezzano, è venuto fuori molto bene, creandoci qualche problema soprattutto su palla da fermo, perché poi grandissime difficoltà non è che ce ne abbia creato. Sicuramente ha guadagnato nel palleggio, sicuramente loro hanno preso campo soprattutto e sono riusciti a pareggiare su una palla inattiva, una palla inattiva sporca che ha attraversato un po' tutta la nostra difesa. Poi dopo abbiamo fatto il secondo tempo, abbiamo fatto una partita di sacrificio come l'avevamo preparata, facendo fatica un po' a salire, avevo detto all'intervallo che sarebbe stata una partita anche il secondo tempo, sarebbe stato un tempo dove ci sarebbero state poche occasioni dall'una e dall'altra parte, perché due squadre che si affrontavano soprattutto con tanto equilibrio e noi se ci capitava l'opportunità giusta dovevamo essere bravi a sfruttarla. Così è stato, alla fine credo, onestamente lo dico, probabilmente il risultato di parità sarebbe stato più giusto per quello che è stato visto sul campo, però le partite sono anche così, insomma, chi è più bravo e più cinico a sfruttare le situazioni poi a casa porta i tre punti.